Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Colpi di mitra sparati in A14, terrore in autostrada questa mattina per il tentato assalto ad un portavalori. L'incubo è iniziato alle 7.30 tra Pescara Nord e Pescara Ovest alla confluenza con l'allacciamento con l'A24. Il colpo era stato pianificato probabilmente da giorni ad opera di professionisti, ma è fallito grazie al pronto intervento degli agenti della polizia stradale di Pescara e delle volanti della questura, coordinati dal questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori e dal primo dirigente della squadra volante Pierpaolo Varrasso. La polizia è sulle tracce della banda che ha agito in pochi minuti. In tutta la zona sono stati allestiti posti di blocco per cercare di intercettare gli autori del colpo. Ma oltre al terrore seminato tra gli automobilisti in viaggio questa mattina, i disagi alla viabilità sono pesantissimi. Traffico quasi paralizzato lungo la strada statale 16 tra Pineto e Pescara, i mezzi che viaggiavano in autostrada infatti si sono riversati lungo la statale adriatica procedendo a Passo Duomo. Traffico in congestione anche lungo la strada statale 714 in direzione sud e a rendere ancora più difficile la situazione le elevate temperature. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Pescara Autostrade per l'Italia. Fortunatamente non si registrano feriti.